buongiorno a tutti dopo la super diretta di ieri sera oggi ci mettiamo subito a cucinare con la venu ragazzi oggi abbiamo ragazzo dice non faccio un cazzo non è vero comunque oggi ragazzi abbiamo spezzatino ragazzi con piselli che stiamo mescolando per perché si amalgami amalgama come si dice ragazzi come si dice amalgama bene i piselli con lo spezzatino ragazzi che è tanta roba come vedete ragazzi dobbiamo far rosolare tutto a fuoco basso qui ragazzi oggi si mangia bene ragazzi casa terminator è sempre un posto da chef ragazzi però voi che state bene e noi qui ci rilassiamo mangiamo vediamo ragazzi tanta roba buon buon sabato ragazzi